Abbiamo riscontrato una partita fatta a grandi livelli contro una squadra nettamente sulla carta più forte e con altri obiettivi rispetto a noi. Ci sentiamo carichi positivi per quello che abbiamo visto e di continuare sicuramente su tutto quello che abbiamo fatto di buono in campo domenica, sabato sera. Per cui molte cose positive, ci sono anche degli aspetti negativi dove andremo a valutare durante la settimana. La reazione sicuramente ci deve essere, ma come c'è stata anche dopo il primo gol di sabato. Questi ragazzi, è un gruppo di ragazzi veramente bello da allenare perché gli si legge in faccia che non amano la sconfitta. Per cui su questo discorso qui non ci preoccupa. La reazione ci sarà sicuramente. Quando esci da una sconfitta ci sono anche gli aspetti negativi. Ora valutiamo, abbiamo rivisto la partita, per cui la stiamo analizzando e oggi facciamo vedere anche gli aspetti sicuramente molti positivi e anche quei negativi dove sicuramente il secondo gol è qualcosa che c'è da rivedere su dei calci piazzati. Questi sono aspetti negativi dove sicuramente si possono migliorare velocemente. Teramo è una piazza molto allettante. Già l'anno scorso affrontarla ci è sempre piaciuta come piazza. E poi è una piazza che può essere anche ambiziosa perché ha una struttura che in serie C ce ne sono veramente poche. Faccio fatica a ricordarmi degli stati così belli e così organizzati. Per cui ci sono tutte le possibilità per far bene in una piazza che, come ripeto, secondo me può diventare importante. E' chiaro che con un progetto nuovo ci vorrà del tempo per portare avanti questo lavoro.